ciao a tutte ben ritrovate finalmente il video creazioni dei gioielli in tesitore di perline fatti nel mese di gennaio 2019 allora questo mese non ho fatto tantissimo perché chi segue il mio canale avrà visto che mi sono dedicata ad altri hobby creativi per cui sapete anche voi che insomma il tempo è un po tiranno e ho dovuto un po dividerlo tra quel hobby cioè la decorazione delle agende e questo vi faccio vedere comunque quello che ho realizzato perché qualcosina l'ho fatta allora parto subito con questo bracciale io vi ricordo che tutti i tutorial che ho seguito li trovate nell'info box qua sotto quindi se vi piace qualcosa e volete realizzarlo anche voi potete seguire quei tutorial quindi porto subito da questo bracciale questo è il bracciale sia di annarita fabiani due parole spendo due parole su un antefatto di questo bracciale nel video creazioni precedente quindi quello dei dicembre dei regali di natale io vi mostrai un bracciale praticamente identico ovviamente fatto con in altri colori una volta condiviso il video qui su youtube io l'ho condiviso anche in alcuni gruppi facebook che che seguo e tra questi gruppi anche il gruppo semplici creazioni di annarita appunto sotto il video lei mi commentò e mi disse che in realtà il tutorial perché io per quel bracciale avevo linkato nell'info box il tutorial di una creativa straniera lei mi disse che in realtà il tutorial originale era il suo infatti lei aveva caricato circa tre anni fa il tutorial per realizzare appunto questo tipo di bracciale la creativa straniera invece ha caricato il suo tutorial il primi di dicembre del 2018 quindi annarita mi faceva notare che era già diversi giorni che cercava di segnalare quel video in quanto era una scopiazzatura del suo siccome io sono trovata un po in imbarazzo perché è una cosa che non ho fatto apposta cioè se avessi saputo che c'era un video di annarita sarei andata a seguire il suo che cosa ho fatto ho promesso ad annarita che le avrei avrei realizzato per il prossimo video creazione quindi questo un bracciale il bracciale suo seguendo il suo tutorial e linkando nell'info box il suo tutorial quindi ragazze se vi piace questa lavorazione seguite il tutorial di annarita fabiani tra l'altro una l'unica differenza tra i due tutorial che io ho notato e una differenza diciamo tecnica ovvero la creativa straniera utilizza due aghi per la lavorazione mentre annarita utilizza un ago solo però i passaggi sono praticamente identici io personalmente adesso non per essere però io personalmente ho preferito il tutorial di annarita perché a me non piace lavorare con due aghi lo trovo scomodo e soprattutto trovo che ho tanto perdita di filo cioè nel senso scarto di filo mentre lavorando con un ago solo quindi nel momento in cui al limite mi ritrovo a finire il filo posso sempre fare l'aggiunta mentre lavorando con due aghi voi dovete già calcolare prima quanto filo vi serve comunque tornando alla creazione vi faccio vedere questo bracciale che ho realizzato con questi cipollotti 6x8 tra l'altro hanno queste sfaccettature bellissime sono blu con queste sfaccettature e dei mezzi cristalli da 4 mm anche questi bellissimi ho utilizzato delle roccae da 11 0 di questo color bronzo che tra l'altro giacevano inutilizzate nella loro fialetta e poi ho inserito questa chiusura t bar lavorata sempre color bronzo e questo è il primo la prima creazione poi vi mostro questi che sono gli orecchini geometric di morose creation adesso un attimo solo che me li posiziono bene così potete apprezzarli ecco uno è qua e l'altro qua allora per quanto riguarda il tutorial di questi orecchini io ho apportato delle modifiche al tutorial e ho apportato anche delle modifiche ai materiali il tutorial originale prevede l'utilizzo di super duo io invece ho utilizzato le twin bead tenete conto che queste twin bead sono vecchissime nel senso che le ho acquistate ancora i primi tempi che uscivano questi tipi di perline e quindi sono molto irregolari questa irregolarità si vede nel fatto che la creazione rimane ondulata leggermente ondulata e non perfettamente piatta però ne avevo tante volevo cercare di riuscire a sfruttare cercare di sfruttarle quindi ho utilizzato queste altro materiale diverso diciamo è che nel tutorial originale vengono utilizzate delle perle da 3 mm e vengono apposte diciamo in maniera alternata sulle punte io invece ho utilizzato solo perle da 4 mm e le ho inserite in tutte e quattro le punte inoltre il secondo modulino è diverso rispetto a quello del tutorial originale perché io volevo che il modulino stesse in questa posizione qua quindi anche qui utilizzando solo perle da 4 mm e niente il risultato è questo mi soddisfa parecchio tra l'altro mi piaceva tantissimo il modulo sotto e quindi mi sono detta proviamo a vedere se riesco a realizzare con questo modulo un bracciale e infatti è quello che ho fatto adesso ve lo mostro il bracciale è questo eccolo qua allora vedete sono quattro moduli praticamente identici a questo modulo qua che poi io sempre realizzati solo esclusivamente con perle da 4 mm e poi io li ho praticamente collegati in questa maniera andando a passare il filo inserendo delle 11.0 per creare queste X che colleghino le perle centrali e inoltre ho collegato con due 11.0 anche le perle diciamo di base e le perle qua sopra l'effetto è abbastanza diciamo prepotente ve lo faccio vedere indossato vedete è un bracciale abbastanza di insomma che attira parecchio l'attenzione è molto grosso cioè molto largo e niente è una via di mezzo secondo me tra un bracciale che può essere stile rock e però l'utilizzo di queste perle cerate lo rende un pochettino più delicato la chiusura è sempre una chiusura t bar ho utilizzato questa chiusura con queste punte particolari queste lavorazioni tra l'altro la trovo molto molto bella e soprattutto molto diciamo in tinta con il bracciale poi vi faccio vedere che ho realizzato questi orecchini che sono in realtà adesso me li sistemo sulla mano sono il ciondolo cuore di Sylvie Bijoux siccome siamo in periodo San Valentino molte creative hanno proposto sui loro canali tutorial per realizzare dei cuori e mi ha colpito molto questo tutorial di questo canale che tra l'altro non è un canale diciamo famosissimo però la ragazza ha condiviso tutorial su uno dei gruppi facebook che sto seguendo per cui mi ha colpito per la semplicità e per la linearità diciamo delle forme molto bello sono orecchini molto piccoli in questo caso ho incastonato un Rivoli Swarovski da 14 mm con dei biconi della Swarovski diciamo che il massimo sarebbe stato utilizzare tutti i biconi dello stesso colore per appunto dare più pienezza al tutto io purtroppo non ci arrivavo come numero a per realizzare due orecchini quindi ho alternato dei biconi sempre viola più chiaro all'esterno mentre proprio per l'incastonatura vedete questi biconi molto scuri che però hanno dentro dei riflessi viola quindi comunque ci stanno un'altra cosa volevo dirvi siccome il mio canale tratta un po' di diversi hobby creativi permettetemi di per le persone diciamo che mi seguono per il discorso della decorazione agenda ovviamente non hanno molte tra virgolette nozioni per quanto riguarda la tessitura di perline e viceversa quindi chi si occupa di tessitura di perline e magari non fa scrapbooking ha delle difficoltà a capire di che cosa sto parlando quindi siccome me l'hanno anche chiesto se potevo spiegare alcune cose permettetemi per chi diciamo se ne intende di fare una piccola precisazione il rivoli swarovski è in pratica questo elemento qua ve lo faccio vedere così non lavorato questo è un rivoli swarovski adesso lasciamo stare il colore quindi è rotondo è rotondo e quindi va incastonato con le perline in una determinata maniera con determinati passaggi adesso vi faccio vedere invece un altro paio di orecchini che ho realizzato e sono gli orecchini Brigitte di Vittoria Antipova e sono questi vedete adesso me li posiziono sempre dove eccoli qua allora in questo caso anche qui troverete il tutorial nell'info box l'elemento centrale è sempre della swarovski ma è un ovale guardate quanto riflesso c'è non riesci neanche a mettere a fuoco l'elemento centrale in realtà è un ovale della swarovski che adesso vi faccio vedere un attimo solo eccolo qua questo è un ovale della swarovski che va invece incastonato cambiando il numero di perline appunto per l'incastonatura questo solo per farvi capire che stiamo parlando di due elementi diversi tornando al discorso orecchini invece in questo caso ho utilizzato appunto un ovale della swarovski bicono swarovski di due diverse ma perché non metto ecco forse se sto qua è meglio di due diverse colorazioni delle super duo una perla da 6 e una goccia in giada rosa delicatissima devo dire che i tutorial della antipova sono secondo me ideali anche per le principianti perché lei utilizza pochissimi elementi ma nonostante questo riesce comunque a creare delle lavorazioni molto elaborate che danno proprio questa luce bellissima all'oggetto infatti questo non è un tutorial assolutamente non è un tutorial difficile da fare eppure guardate l'effetto che hanno questi orecchini bellissimi ultima cosa che vi faccio vedere e questa è una cosa che non ho seguito tutorial ma l'ho fatta io sono sempre un paio di orecchini ma fatti con la tecnica dell'embroidery adesso prima ve li faccio vedere poi vi spiego di cosa stiamo parlando allora questi orecchini qua sono stati fatti incastonando dei cabochon in resina in questo caso sono cabochon che hanno come soggetto queste due fatine in realtà sono un fatino e una fatina su questa base nero opaco bellissime secondo me già solo il cabochon successivamente sono andata a realizzare l'incastonatura con queste perline queste delica e queste rocaille da 15.0 e poi sono andata a contornare il tutto con dei mezzi cristalli da 4 mm dunque anche qui per chi diciamo non sa allora in pratica a differenza delle altre creazioni che vi ho fatto vedere adesso nella tecnica dell'embroidery si utilizza un cabochon in questo caso questo è simile è sempre in resina quindi simile a questo lo si incolla su una base in questo caso è una base un pezzo di alcantara poi successivamente si crea l'incastonatura come ho fatto qua con queste perline per cercare di appunto di vestirlo tra virgolette e di fissarlo ancora di più alla base ovviamente l'incastonatura si crea cucendo le perline su questo pezzo di alcantara una volta fatto questo lavoro vanno applicati i mezzi cristalli ovviamente sempre cucendoli a uno a uno intorno all'oggetto principale di solito si rifinisce il tutto con una rifinitura che si chiama brick stitch che però io non ho fatto perché per me già così sono molto pieni il retro ve lo faccio vedere è semplicemente un altro pezzo di alcantara in questo caso nero incollato avrei potuto rifinire al brick stitch però vi faccio vedere qua però non riuscite a cogliere che secondo me non era neanche necessario rifinire esternamente perché è già bello così poi ho applicato un perno e nulla vi faccio solamente vedere una cosa sono orecchini molto grandi vi prendo gli orecchini ciondo cuore di Sylvie Bijoux per farvi vedere quanto la differenza proprio di dimensioni vedete questo è enorme diciamo che non tutti possono piacere orecchini così grandi a me personalmente piacciono molte persone invece preferiscono magari l'orecchino piccolo diciamo non molto impegnativo nonostante comunque l'utilizzo di materiali qui sicuramente molto più pregiati rispetto a questi però molti preferiscono magari l'orecchino piccolo mentre io sono un amante di questi patacconi chiamiamoli così e nulla ragazze queste sono le mie creazioni adesso ve le metto qua queste sono le mie creazioni per il mese di gennaio mi era stato chiesto da alcune persone se potevo fare dei video nei quali allora mostravo magari i materiali che utilizzavo oppure magari dei video acquisti su dove compravo il materiale eccetera l'unica cosa che posso dirvi è questa allora io per fare tutte queste creazioni e anche quelle che avete visto in precedenza sto facendo un nel gergo si chiama PSP ovvero si chiama programma smaltimento perline cosa vuol dire vuol dire che io siccome avevo abbandonato diciamo questo hobby per tanto tempo mi sono ritrovata ad avere tantissimo materiale da da smaltire quindi acquisti non ne faccio in questo momento l'unica cosa forse che dovrò acquistare e quella per forza sarà il filo perché ho praticamente terminato il filo sto utilizzando solo un filo molto spesso che è uno 020 che in passaggi dove si utilizzano perline molto piccole non entra e quindi rischio di spaccare gli aghi e rischio di spaccare le perline quindi probabilmente farò un ordine da un sito internet per acquistare questo fireline di una misura più piccola e magari in questo ordine ci inserirò dentro qualche piccolo componente così poi al limite vi faccio un video vi faccio vedere insomma cosa ho acquistato per quanto riguarda invece il discorso tipologie di perline eccetera eccetera quindi materiali veri e propri non lo so a questo punto chiedo a voi se siete interessate a vedere a capire meglio i materiali che io che io tutte noi utilizziamo per realizzare questi gioielli se vi va fatemelo sapere nell'info box così mi organizzo e vi faccio vedere in maniera molto semplice e anche abbastanza diciamo con umiltà chiamiamolo così quali sono i materiali principali per realizzare queste tipologie di gioielli va bene ragazze spero che il video vi sia piaciuto spero di avervi fatto un po' di compagnia di avervi magari suggerito qualche tutorial carino da seguire niente mando un bacio a tutte e noi ci rivediamo al prossimo video ciao ciao ciao